Ciao ragazzi sono Natalie e in questo video vedremo nuova collezione invernale di Mesauda Nail Pro non ce la faccio a pronunciare il nome perché c'è scritto in danese ma comunque è ispirata a qualcosa di caldo, avvolgente e comodo questi bellissimi colori ci terranno compagnia nel periodo invernale quindi è un periodo magari più brutto dell'anno perché piove, perché c'è freddo qui da me nella pianura padano c'è anche la nebbia allora questa collezione è completa perché ci sono anche i preparatori quindi c'è primer non acido, tutte le boccette sono da 4,5 ml poi c'è la base, c'è il top e ovviamente sei colorissimi permanenti che adesso andremo a vedere insieme e andremo a stendere così io vi dirò le mie impressioni e sotto come sempre vi lascerò tutti i contatti di Mesauda Nail Pro su in alto vedete il mio codice sconto, Mesauda da poco ha rinnovato il suo sito quindi a volte il codice non funziona, quindi contattate assistenza clienti e vi daranno un codice sconto temporaneo vi ricordo che questo sconto vale solo su prodotti a prezzo pieno cominciamo con primo colore che è molto acceso, guardate che meraviglia mi ricorda qualcosa di estivo a dir la verità quindi magari un raggio di sole in questo bruttissimo periodo invernale che piove 240 è davvero un bel colore questo qua mi ricorda un caldo maglione o qualcosa di avvolgente questo colore vi consiglio di stendere in due passate sottili guardate che meraviglia 241 è un colore arancio però magari può ricordarci miele, perché no? anche questo colore vi consiglio di stendere in due passate sottili è abbastanza acceso ma molto molto bello questo è uno dei miei preferiti è un colore grigio ma con una nota di un po' di blu o di viola, non lo so questo è un colore davvero bello mi piacciono proprio questi colori invernali così spenti ma intensi Kashmir è il colore per gli amanti dei nude perché è un colore davvero bello e secondo me si esposerà benissimo con qualsiasi colorazione della pelle guardate che bello ultimo colore è una sorpresa 244 sono i glitter glitter dorati anche con una nota di bronzo direi e coprono in una sola passata guardate che meraviglia per le vostre feste sicuramente questo colore non può mancare vi faccio vedere tutti i sei colori da vicino e ovviamente ho già fatto un piccolo video tutorial con questo colore che è uscito su Instagram adesso vedete la foto in basso e sotto in descrizione a questo video come sempre vi lascerò il link di questo tutorial vi lascerò anche tutti i contatti di Mesauda Nile Pro non ricordate le cose che vi ho detto sul mio codice sconto che adesso vedete su in alto e mi raccomando iscrivetevi anche sul mio Instagram che troverete sotto perché perché è proprio lì che pubblico tutti i miei video tutorial e tantissimi post utili quindi iscrivetevi non ve ne penterete anche perché così saprete tutto per i primi fatemi sapere giù nei commenti quale dei colori è il vostro preferito e magari se avete già acquistato questa collezione